Il Teramo torna a casa dalla trasferta di Prato con un punticino in tasca, poco per le ambizioni di classifica, abbastanza per quello che si è visto in campo. Su un terreno di gioco ridotto al limite della praticabilità, dalla pioggia battente scesa prima e durante la contesa, che ha penalizzato il gioco di entrambe le squadre, è stato comunque l'11 di casa, impelagato nei quartieri bassi della classifica, a spingere di più, perlomeno nella prima ora di gioco. Il Teramo, schierato con gli stessi effettivi della gara con la maceratese e dunque con le conferme di Brugalette e Paolucci, ha tenuto botta nelle retrovie, ma ha fatto fatica ad arrivare dalle parti dell'estremo dei Lanieri. Così i pericoli principali nella prima frazione li crea un prato privo di elementi cardine, quali il centrocampista Cavagna e il gioiellino Capello. Se in apertura Francesco Forte per poco non complica il suo già problematico inserimento in bianco-rosso, la traversa lo salva da un otogol, poi è Moncini a spaventare il diavolo, arrivando in ritardo sulla torre di Gaiola e soprattutto esibendosi con una deliziosa giocata sul finale di frazione. Il suo destro liftato lambisce il palo a Tonti battuto. Un Teramo impantanato non lascia tracce offensive nel primo tempo e in avvio di ripresa ringrazia Tonti, che sventa l'incornata del solito Moncini, innescata dalla punizione di Serrotti. Per il primo squillo bianco-rosso bisogna attendere metà ripresa, quando Cenciarelli tenta un sinistro d'incontro, che finisce vicino al palo della porta difesa da Rossi. Nel frattempo Vivarini inserisce Cruciani e cambia l'attacco con Moreo e Petrella per le noci e Forte, e al novantesimo proprio Cruciani e Petrella creano l'ultimo guizzo del match, col sinistro al lato dell'attaccante Pratolano. Finisce così senza gol al lungo Bisenzio, un punticino interlocutorio, per un Teramo che si appresta a vivere un finale di stagione anonimo da centro classifica.